Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e buongiorno a te. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Moncalvo, tra i tanti libri che lei ha scritto ce ne sono due in particolare che si occupano delle vicende di questa famiglia. Si tratta di una ricerca che lei ha fatto molto approfondita, di una famiglia potentissima che ha influenzato la storia del nostro paese. Ricordiamo questi due titoli, allora, I lupi e gli agnelli, chiedo alla regia di farli vedere, eccolo qua, e poi anche Agnelli segreti, eccolo qua il secondo libro. Allora, Moncalvo, come nasce, da dove nasce la parabola di questa famiglia? La parabola di questa famiglia più recente, ahimè, nasce in un'aula giudiziaria al Tribunale Civile di Torino nel 2007, quando la figlia, Margherita, una delle due eredi del gigantesco patrimonio paterno, l'altra erede era naturalmente sua madre, la vedova di Gianni Agnelli, Don Marella Caracciolo, quando la figlia decide di rivolgersi al Tribunale Civile di Torino per avere rendiconto, vale a dire, voce per voce, tutto ciò che costituiva la massa patrimoniale successoria del padre. Naturalmente lei si riferisce a quella in Italia, mentre la grande massa di patrimonio Agnelli si trova da molti, moltissimi anni all'estero, al riparo dalle tasse, dal fisco italiano e da qualunque autorità, anche quelle di tipo culturale e artistico, tipo il ministro Franceschini, volesse metterci il naso, direte cosa c'entra il ministro dei beni culturali, perché una parte dell'eredità è costituita da un gigantesco patrimonio artistico, la cosiddetta collezione Agnelli, molti quadri dei quali, anzi il 98% di quei quadri, non sono stati notificati, come prevede la legge, alle autorità italiane, alle soprintendenze e quindi sono fuori da ogni regola, sono fuori da ogni controllo e vanno e vengono dall'Italia verso l'estero o viceversa, senza che nessuno alle frontiere batta ciglio. Questo quindi è l'avvio di questa cosa, io mai più avrei immaginato di scrivere due libri, e più ce n'è un terzo intitolato I Caracciolo, che rivela tutti i segreti e retroscena che riguardano specificatamente Marella Agnelli, che è la vera protagonista di questa vicenda. Mai più avrei immaginato di scrivere un libro su Agnelli perché era già stato scritto tutto, tutto naturalmente dal punto di vista elegiaco, dal punto di vista dell'esaltazione, dal punto di vista della mitizzazione. Ho deciso di scrivere questo libro nel momento in cui ho letto sul Wall Street Journal, poiché è stato un giornale straniero il primo a pubblicare questa notizia, la figlia aveva fatto la causa al Tribunale di Torino. Mi sono detto a questo punto è possibile scoprire anche l'altra faccia del pianeta Agnelli, soprattutto quella più esecrabile, quella più sconosciuta, quella più negativa. Perché? Perché nel momento in cui c'è una causa giudiziaria occorre depositare degli atti, occorre chiamare dei testimoni, occorre esibire delle prove, non ci sono chiacchiere da bari in un'aula di giustizia. E dato che c'è sempre la possibilità, in maniera corretta, pulita e onesta per un giornalista, di stabilire un canale di comunicazione con delle fonti giudiziarie, ho pensato ci fosse la possibilità di raccogliere dei documenti e quindi di raccontare questa vicenda mai scritta, ma semplicemente sulla base di questi documenti. Da lì è venuto fuori uno spaccato terribile che dimostra la più grande storia di evasione fiscale che sia mai avvenuta in Italia e che continua ad avvenire. Ecco poi magari in seguito nell'intervista ci spiega anche cosa poi ha comportato anche da un profilo di distribuzione dei suoi lavori questo tipo di ricerca che è andato un po' in un'altra direzione rispetto a tutti i lavori che erano stati fatti precedentemente, cioè come ha detto giustamente lei, lavori un po' di mitizzazione di questa famiglia. Senta, tra, diciamo forse, la figura più discussa di questa famiglia nella storia recente è sicuramente quella di Giovanni Agnelli, amministratore al vertice della Fiat, ma anche senatore a vita. Parliamo appunto di un'azienda che è stata leader del settore automobilistico in Italia. Senta, ma chi è stato, come si può definire Giovanni Agnelli, in particolare nel suo rapporto con l'Italia? Cioè, che cosa ha lasciato in eredità all'Italia Giovanni Agnelli e che cosa ha rappresentato per il nostro paese? Giovanni Agnelli, in eredità all'Italia, non ha lasciato niente. Giovanni Agnelli non era un imprenditore, era un prenditore, un uomo che ha sempre controllato, addirittura controllava la telecom per un certo periodo, col famoso nocciolino, cioè lo 0,5%. Quindi Agnelli impersonificava il potere vero in Italia, il vero sovrano dell'Italia, a colui che determinava certe scelte, certe leggi, soprattutto a proprio tornaconto, ma non dava nulla. Coloro che dicono no ha costruito delle fabbriche, ha dato lavoro a migliaia e migliaia di operai, questo può anche essere vero, ma sono stati pagati da questo paese dei prezzi enormi, prezzi di migrazione di massa di persone che arrivavano a Torino con la valigia di cartone allacciata con lo spago e non trovavano nemmeno un letto dove dormire, poiché i cartelli fuori dalle porte dei torinesi dicevano non si affitta ai meridionali oppure si affittano letti a ore. Ecco, non è quindi un imprenditore alla Adriano Olivetti, le case coloniche, le case per gli operai, le colonie estive, tanto vantate, sono state fatte dopo, molti, molti, molti anni dopo, sono state fatte da Valletta, non sono state fatte da Agnelli. Quindi la Fiat va riassunta in quella che era il motto del vecchio Agnelli, il fondatore, colui che portò via la Fiat ai suoi soci, e venne celebrato un processo clamoroso per quei tempi, e Agnelli nel processo d'appello giocò una carta incredibile, fece dimettere il ministro di Grazia e Giustizia Vittorio Emanuele Orlando, lo assunse come proprio avvocato difensore, naturalmente Vittorio Emanuele Orlando vinse quel processo, poiché i giudici della Corte erano i giudici che lui aveva promosso come ministro di Grazia e Giustizia del Re, e subito dopo il prosciuglimento di Agnelli, con delle motivazioni assurde in questo processo che si svolse nel 1900 al 1908 in avanti, Vittorio Emanuele Orlando rientrò al governo, quindi un atto di tracotanza e di dimostrazione di potere spaventosamente grande. Ma il vecchio Agnelli a chi gli chiedeva, scusi ma lei è fascista o antifascista? La risposta era semplice dall'immagine di questa famiglia e di quell'industria. Il vecchio senatore Agnelli rispondeva io sono antifascista a Torino, poiché c'è il Partito Comunista forte, ci sono i sindacati forti, ci sono gli operai, mentre sono fascista a Roma, poiché a Roma c'è il Duce, c'è Mussolini, ma soprattutto ci sono i ministri della guerra che devono firmarmi le gigantesche commesse di forniture belliche o civili per lo Stato italiano. Più recentemente Giovanni Agnelli, il nipote del vecchio senatore Agnelli che porta via la Fiat ai suoi soci, di fronte all'eventualità di Berlusconi, la prima volta che si presentò alle elezioni nel 1994, a chi gli chiedeva se secondo lei Berlusconi vincerà o perderà. Anche questa risposta che sto per darvi rivela lo stato d'animo, la doppiezza e il doppio giochismo della famiglia Agnelli. La risposta di Agnelli di fronte all'eventuale discesa in campo di Berlusconi fu guardi, se perde ha perso solo lui, se vince abbiamo vinto tutti noi. Ecco questa è la costante, ma una costante che si avvicina e arriva anche ai tempi nostri. Non dimentichiamo che Giuseppe Conte ha dato miliardi di denaro per il Covid alla famiglia Agnelli e John Elkan li ha intascati e non li ha usati per tutti i danni che c'erano stati con il Covid, ma li ha usati per fare un dividendo straordinario ai propri familiari, ai propri azionisti. 6,7 miliardi di euro. Non dimentichiamo che ai tempi del governo Conte, Arcuri, il commissario, la più grande commessa di mascherine anti-Covid, le ha date alla Fiat, le ha date a John Elkan, nonostante la Fiat avesse da anni spostato la sua sede in Olanda, sede fiscale e sidosistica a Londra e avesse spostato all'estero molti dei suoi stabilimenti. Non dimentichiamo che adesso si sta parlando di un altro gigantesco affare per questi signori che sono fuggiti dall'Italia e se ne sono andati senza aver mai pagato le tasse in tutti questi anni. Il grande progetto che c'è in atto adesso, il grande business, è di trasformare Mirafiori, naturalmente con i contributi dello Stato e senza che gli Agnelli aprano il portafoglio, Agnelli diciamo, Agnelli ma si parla di Elkan ormai, di trasformarla in una grande fabbrica di microchip. Sentite che mancano i microchip, siamo disperati perché non è possibile produrre, non ci sono più i microchip. Allora cosa facciamo? Dentro lo stabilimento di Mirafiori, che è rimasto chiuso per anni, tanto che la cassa integrazione era a rotazione, cioè gli operai andavano a lavorare un mese all'anno, poi dopo sei mesi andavano a lavorare un altro mese. Quindi è una cosa vergognosa. Alcune di queste linee di montaggio delle ex automobili Fiat sono state trasformate per produrre le mascherine, pensate le mascherine, ma mascherine che sono state dichiarate non conformi, che sono sottoposte a inchiesta di varie procure della Repubblica e su cui ci fu anche una stranissima inchiesta di striscia la notizia. Dico stranissima poiché era fatta in Veneto dal loro inviato, come si chiama, Morello, il quale trovò molte mamme, molte famiglie che respingevano queste mascherine perché erano mascherine destinate agli scolari, agli studenti, agli elevi delle scuole, specie elementari. Le rifiutavano poiché non consentivano di respirare bene perché facevano venire dei dolori alle orecchie. Difatti si chiamavano mascherine giarrettiera, poiché invece di esserci lo stringhino dietro l'orecchio c'era una specie di elastico tutto arricciato che richiamava una giarrettiera e in più, secondo queste denunce circostanziate di queste famiglie che avevano rifiutato le mascherine per i loro figli e le avevano restituite ai direttori didattici e ai presidi, queste mascherine puzzavano di petrolio, di idrocarburi, di benzina. Stai c'è la notizia stranamente dopo un paio di puntate ha smesso di occuparsi di questo problema. Ma io ho scritto, ho chiesto, Marino Morello in quel periodo aveva accontrato il Covid insieme alla moglie ma quando poi è guarito, spero che sia guarito, sono certo perché l'ho rivisto in onda, questa inchiesta è ripresa ma riguardava altri tipi di mascherine, altri produttori di mascherine. Su quelle cose della Fiat che dicevano ma vedremo, provvederemo, ne vi faremo sapere, è sceso il silenzio. E' chiaro che il denaro che la Fiat investe in pubblicità sia sui giornali ma soprattutto in televisione, guardate gli spot televisivi pubblicitari in gran parte sono per delle automobili, ebbene è chiaro che ha un certo peso e basta una telefonata. Anche al potentissimo e liberissimo Ricci, che saremmo lieti se vorrà rispondere e smentirci, sono riuscite evidentemente ad avere effetto. Ecco, questo qui è un po' il quadro. Quindi gli Agnelli, anzi gli Elkan, continuano impunemente a farsi gli affari loro, ma quello che fa più paura è la reazione di chi ha il vertice di questo paese. Pensate che recentemente, anzi proprio nei giorni scorsi, John Elkan, dopo essere stato insignito il 2 giugno scorso, in occasione della Festa della Repubblica, dal Capo dello Stato, dell'insegna massima per un imprenditore, cioè il Cavaliere del Lavoro, l'altro giorno c'è stata la riunione dei Cavalieri del Lavoro, della Federazione dei Cavalieri del Lavoro, ebbene si sa benissimo, perché lo hanno scritto i giornali ed è documentato, che per 18 anni ha nascosto alle autorità, nella fattispecie la Camera di Commercio di Torino, cioè l'ufficio che deve tenere gli atti delle singole società, gli statuti, i regolamenti, i nomi dei consiglieri e delle amministrazioni, ha nascosto al registro delle imprese della Camera di Commercio l'essenza, i nomi, il denaro, le quote, le partecipazioni di quella che è la cassaforte fondamentale dell'impero Elkan, vale a dire la società semplice dicembre. La società semplice dicembre è quella che racchiude le partecipazioni di controllo della EXOR, della comandita di famiglia Giovanni Agnelli, che ha sede ad Amsterdam adesso, e di tutta un'altra filiera della società, la Partner Re, la Juventus, la Iveco, la New Holland, e via discorrendo. Ebbene, un signore che nasconde per 18 anni alle autorità la verità sulla sua cassaforte, sulla cassaforte di un impero economico, che nasconde alle autorità americane, nella fattispecie la Security Exchange Commission, questa realtà, perché doveva comunicargliela? Doveva comunicargliela poiché nel 2014 ha chiesto alla SEC americana la quotazione alla Borsa di New York di due titoli importantissimi, quelli di FCA Fiat Chrysler Automobile, ottenuta, e quella di Ferrari NV, cioè la società holding, la capa della holding della Ferrari, quella di Maranello. Ebbene, per ottenere questa quotazione di queste due importanti società, per ammetterle al titolo, poi la FCA è uscita dal titolo, John Elkan ha presentato delle notizie false, ha presentato i documenti della dicembre, che in quel periodo, e fino a pochi mesi fa, fino a luglio scorso, prima che egli si decidesse finalmente a rivelare tutto, ammettendo che aveva nascosto per 18 anni tutte queste carte, fino a luglio scorso, la dicembre, la società che controllava tutto quel ben di Dio che abbiamo detto prima, risultava intestata a tre vecchietti, Marella Agnelli, che nel frattempo era morta, Gianluigi Gabetti, che nel frattempo era morto, e Cesare Romiti, che oltre ad essere morto, era uscito da 20 anni dal FIAT. E sapete quali erano le quote di partecipazione all'interno della cassaforte di famiglia di questi tre signori? Erano, perché le erano ancora espresse in lire, pensate come erano aggiornati, dieci quote da mille lire ciascuna, a totale dieci mila lire per la signora Marella Agnelli, una quota da mille lire per Gianluigi Gabetti e un'altra quota da mille lire per Cesare Romiti. Quindi con dodici mila lire, vale a dire più o meno sei euro virgola venti, volevano far credere i signori Elkan che quei tre vecchietti, tutti e tre defunti, controllavano la FIAT. Questa cosa, secondo me, avviene solo in alcune località, ahimè, non voglio fare dei luoghi comuni, del sud Italia, dove intestano le cose ai vecchietti moribondi o al vecchio zio un po' suonato e cose del genere. Adesso sono... Dottor Moncalvo, mi scusi se la interrompo, però perché tutto questo quadro che lei ci ha dato che rappresenta veramente uno scenario, a dir poco, anche inquietante, rispetto a una famiglia che sembra aver avuto una sorta di potere ombra anche a livello politico e di aver influenzato anche in una certa misura le vicende politiche del nostro paese. E aggiungerei a questo punto il fatto che lo stesso Giovanni Agnelli e adesso il suo erede, cioè John Elkan, sono a capo del... Anzi, sono all'interno del comitato direttivo del gruppo Bilderberg, che è appunto un gruppo che sappiamo radunarsi ogni anno e che raduna il gota, diciamo, della politica e della finanza del mondo occidentale. Ecco, ma non è che anche attraverso questo gruppo e poi attraverso tutte le vicende che le ha raccontato la famiglia Agnelli ha anche in qualche modo influenzato proprio le vicende politiche del nostro paese? Per farle un esempio, non solo le ha influenzate, ma addirittura è stata oggetto di richieste di poter fare delle cose da parte dei politici. Vi faccio un esempio. Quando ci fu il famoso trasferimento in Olanda, il presidente del Consiglio era Matteo Renzi, il quale, dopo essere stato a Detroit a premiare Sergio Marchionne dicendo lei è un esempio per gli imprenditori italiani, tanto che molti imprenditori, piccoli imprenditori, si ribellarono di fronte a questa frase, a questo premio, perché dissero ma come? Noi che siamo stati criminalizzati per aver trasportato o trasferito un capannone o alcuni vecchi macchinari in Romania, in Polonia, in Bulgaria per pagare meno tasse, per avere una mano d'opera a meno prezzo, siamo stati criminalizzati, siamo stati additati al pubblico ludibrio. Lì addirittura uno che non ha trasferito un camioncino di vecchi macchinari, ma che ha trasferito tutto il cucuzzaro, chiamiamolo così, in Olanda, negli Stati Uniti, in Brasile, in Messico, chi più ne ha più me metta, viene premiato. Ebbene, quando Renzi andò a conferire questo premio a Marchionne, qualche mese dopo, gli arrivò la notizia in anticipo che la Fiat stava per trasferirsi in Olanda. Renzi chiamò John Elkan e Marchionne quasi disperatamente, gli disse dobbiamo impedire questa cosa, perché voi andate là? La risposta fu non andiamo per pagare meno tasse, andiamo là perché c'è una legislazione favorevole per quanto riguarda le maggioranze nei consigli d'amministrazione. Vale a dire, molte società trasferiscono loro sedi in Olanda, specialmente dei conglomerati molto grandi come il gruppo Fiat, per una ragione molto semplice. Se supponiamo che John Elkan e i suoi alleati in consiglio hanno il 40% delle azioni, non hanno la maggioranza assoluta, ma secondo la legge, gli statuti e la legge societaria, il diritto societario olandese, come gli altri paesi europei, se tu hai la maggioranza relativa a quel 40%, ottieni un premio di maggioranza che ti consente di arrivare al 50,1%. Quindi questa è una clausola formidabile, poiché ti consente di governare le aziende anche se non ne hai la maggioranza assoluta, perché ottieni questo premio di maggioranza che ti consente di superare il limite. Quando John Elkan spiegò la ragione di questo suo trasferimento davanti al servo Marchionne a Renzi, Renzi disse, ma se si tratta di questo, io faccio approvare in 448 un decreto a legge che consenta anche in Italia di avere questo tipo di agevolazione, cioè di concedere questo premio di maggioranza. John Elkan non rispose. Renzi fece approvare questa legge che c'è, che esiste da quel momento, ma nonostante la parola data John Elkan rimase in Olanda e non fece in contraccambio al suo amico diventato ex nel frattempo, Renzi, alcun favore. Quindi la Fiat non soltanto decide i destini di questo paese, ma ottiene ciò che vuole dal governo di questo paese. Lo dimostrano questa storia di Conte, le mascherine, quel premio per il Covid, quei rimborsi e tutta un'altra serie di cose. Vedete, la grandezza, chiamiamola così, tra virgolette, in maniera un po' sgradevole, di Marchione è stata questa. Marchione non ha mai licenziato nessuno. Non ha mai licenziato nessuno perché avrebbe pagato un prezzo politico nell'opinione pubblica, eccetera. Lui ha fatto così, li ha messi tutti in cassa integrazione e siamo stati noi, lo Stato, i cittadini, attraverso l'Inps, a dare lo stipendio a queste persone che non potevano più andare a lavorare perché non c'era più da costruire. Quindi hanno messo a carico di noi cittadini, come hanno sempre fatto, e le perdite. La Fiat è specialista perché ha sempre incassato i profitti, i giganteschi benefici pubblici, i contributi a fondo perduto per costruire gli stabilimenti al sud e poi chiuderli, le rotamazioni, il blocco delle importazioni delle auto straniere molti anni fa, tutta una serie di agevolazioni e di contributi. In cambio, per essersi messi a tutti questi soldi pubblici in tasca, non hanno nemmeno pagato le tasse e nel momento in cui c'erano da staccare dei dividendi e delle cedole, le intascavano loro, noi intascavamo noi. Quindi loro incassavano i profitti e noi pagavamo le loro perdite senza avere alcune forme di scambio. E nei governi recenti, con quei due esempi che vi ho fatto del governo Conte, sia per il Covid che per le mascherine, e adesso attenzione su Draghi e Mirafiori trasformata in fabbrica di microchip, non si sa a vantaggio di chi e per chi, sicuramente per Rielkan, state attenti che siamo vicini a questa situazione. La questione Bilderberg, la questione Bilderberg è stata nel corso degli ultimi 70 anni il trampolino di lancio per la famiglia Agnelli, perché ha sempre avuto suoi rappresentanti, compreso Gianni, compreso Umberto, e prima Valletta, all'interno dello steering committee, cioè del comitato esecutivo della stanza dei bottoni di Bilderberg. Diciamo che la famiglia Agnelli ha sostituito a poco a poco la democrazia cristiana, che non si occupava di queste cose. Ad esempio, i soci fondatori del Bilderberg iniziale avevano chiesto a Luigi Gedda, quello dei comitati civici che fece vincere le elezioni alle elezioni del 1948 di entrare. Lui rifiutò, poi c'erano stati molti esponenti democristiani, e a poco a poco gli Agnelli capiranno l'importanza di questa cosa, soprattutto a livello di rapporti con gli Stati Uniti. Il Bilderberg nasce ai tempi della guerra fredda per far sì che gli Stati Uniti abbiano un'immagine positiva in Europa e quindi per costituire insieme all'Europa un grande mercato di sbocco dei prodotti, perché in tempo di pace serve una grande riunificazione. Di fatti all'inizio l'Unione Europea si chiamava Mercato Comune Europea, in maniera che non ci siano barriere doganali, le merci possano circolare liberamente e soprattutto dagli Stati Uniti arrivino le loro esportazioni, arrivano le loro merci e quindi il loro profitto. La Fiat si infilò in questo corridoio e lo ha poco a poco ampliato, anche se oggi paradossalmente siamo passati da una presenza che era costituita da Gianni e Umberto Agnelli a una presenza italiana che è costituita da Gianni e Lilli, cioè da Gianni Elkan e da Lilli Gruber. Questo fa un po' sorridere pensando ai due corni del dilemma, perché in questo modo chi pensa che si tratti di una sentina di tutti i mali, di un gruppo che complotta e che fa i propri interessi dice ma se c'è Lilli Gruber, se c'è come c'è stato in passato Gianni Riotta o Carlo Rossella o questa gente qui, non c'è niente da temere da un gruppo di questi signori. Vi ricordate che in una delle prime edizioni, le ultime due sono state sospese a causa del Covid, venne invitato addirittura l'allora vice direttore del fatto Stefano Feltri e tutti rimasero abbastanza inorriditi dicendo ma come il braccio destro di Travaglio, colui che è il vice direttore di un giornale come il fatto che denuncia questi complotti internazionali, eccetera, va, accetta di andare a una riunione di Bilderberg. E infatti dal punto di vista dell'immagine negli articoli quei due o tre che Stefano Feltri riscrisse al ritorno dal Bilderberg non ci raccontò da bravo la vista che cosa avveniva dentro di che cosa si parlava, no, sembrava una riunione di gente che era andata a mangiare pane e salame in quell'occasione all'hotel Richmond di Montreux, sul lago di Montreux e quindi si trattava di compagni della parrocchietta, lui si lamentò che bisognava pagarsi le spese, prenotarsi in albergo e quindi lui si trovò dice mamma qui che complotti non ci sono complotti mi sono trovato a pranzo o a cena alla mensa con Kissinger o chi capita senza posti assegnati cioè sembrava una barzelletta l'abbiamo capito dopo poi perché bisogna andare a vedere dopo che cosa raccolgono questi signori Stefano Feltri al ritorno in Italia dopo qualche settimana annunciò che si sospendeva da vice direttore del fatto e sarebbe andato a lavorare negli Stati Uniti a lavorare negli Stati Uniti dove bisogna stare attenti molto ai nomi da Zingales il professor Zingales che cosa c'entra con questa cosa il professor Zingales è colui che va tenuto d'occhio insieme per esempio a Franco Bernabè che oggi è uno degli uomini chiave di Bilderberg per quanto riguarda l'Italia Franco Bernabè se andate a leggervi la sua biografia rimanete impressionati del rapporto tra la sua giovane età anagrafica e la quantità e il prestigio e la qualità degli incarichi ad altissimo livello che gli sono stati affidati a parte questo vediamo un attimo Zingales che cosa c'entrava cioè colui che al ritorno da quella riunione del Bilderberg cui aveva partecipato assume Stefano Feltri vice direttore all'ora del fatto lo assume in una università americana e da lì poi c'è un passo successivo di Feltri perché l'ingegner Carlo De Benedetti nel momento in cui decide di mandare a quel paese i figli che hanno sbagliato i conti su Repubblica e l'hanno addirittura svenduta a John Elkamp per aver avuto le quote in regalo dal loro papà dopo quando Carlo De Benedetti decide di aprire un quotidiano intitolato Domani a chi affida la direzione di questo quotidiano? Proprio a Stefano Feltri vedete quindi è una quadratura di cerchio perfetto si va dal fatto quotidiano lavorando a stretto di gommi con Travaglio si va alla redazione della sette di Lili Gruber del programma di Lili Gruber che partecipa sempre al Bilderberg e si passa poi a dirigere il quotidiano di Carlo De Benedetti con un particolare perché uno dice Zingales chi è? Non bisogna dimenticare che Zingales è un altro personaggio molto importante di questo backstage ve lo ricordate la lista e il movimento politico che presentò Oscar Giannino qualche anno fa ve lo ricordate Oscar Giannino molto simpatico molto documentato un bravissimo giornalista economico dotato di grandissime capacità anche televisive di spiegare bene le cose e di presentarlo ebbene vi ricordate che con quel piccolo partito con quel piccolo movimento di cui Zingales e fondatore insieme a Oscar Giannino le previsioni e vi compresa la sondaggista del Cavaliere Berlusconi la signora Ghisleri arrivò all'8-10% nei sondaggi era un 8-10% che la Ghisleri disse al Cavaliere attenzione perché si tratta di potenziali elettori di Forza Italia un elettorato di centro medio-alto borghese che è attratto da questo movimento e dal prestigio e dalle capacità di Oscar Giannino il Cavaliere convocò Oscar Giannino ad Arcore o si mise in contatto con lui e gli disse ma eviti di presentare la sua lista rischiamo di farci del male reciprocamente abbiamo gli stessi obiettivi politici di non dare l'Italia in mano ai comunisti allora usava ancora quei termini Berlusconi quindi venga che ci mettiamo d'accordo mettiamo un po' di vostri candidati nelle nostre liste e gli diamo dei collegi sicuri Oscar Giannino rifiutò decisamente questa proposta di Berlusconi Berlusconi quindi si trovò di fronte a questo problema lascio vivere un movimento che rischia di portarmi via l'8-10% e quindi mi toglie un grosso peso elettorale oppure che cosa devo fare accadde qualche cosa non so se è una coincidenza se è qualcosa collegato a quel no di Oscar Giannino e Berlusconi comunque cosa succede? succede che il cofondatore di quel movimento Zingales ha una settimana dallo sfoglimento dalle elezioni che cosa fa? Denuncia pubblicamente una cosa di cui avrebbe dovuto accorgersi qualche tempo prima e cioè che Oscar Giannino non era vero come aveva pubblicato sul suo sito internet sul suo profilo che aveva frequentato un determinato corso post laurea negli Stati Uniti in particolare nell'istituto di Zingales del professor Zingales e quindi in pratica Giannino passò per un taraccatore di curriculum uno che si era inventato di avere la laurea Giannino non ha bisogno di avere la laurea perché è una persona di altissimo livello come lo era allora ma fu molto strano e nessuno se lo ricorda più che proprio il cofondatore di un movimento che stava per prendere l'8-10% delle elezioni il cofondatore che avrebbe dovuto dirla un po' prima questa cosa se gli stava sulla coscienza all'improvviso a sette giorni dalle elezioni boicotta il suo stesso movimento quindi fa il gioco di Berlusconi direttamente o indirettamente ma il risultato è quello e che cosa fa? sputtana il movimento stesso sputtana il povero Oscar Giannino e arriva a queste conclusioni ecco questo qui è lo Zingales che assume Stefano Feltri dopo la riunione del club Bilderberg l'hotel Richmond di Montreux lo porta con sé negli Stati Uniti a Boston e poi all'improvviso Feltri viene anzi De Benedetti viene conquistato da Feltri per fare uno dei giornali che francamente lo dico dal giornalista dal punto di vista grafico è uno dei più brutti giornali che esistono diciamocelo francamente grafico parliamo appunto di editoria le volevo chiedere un'ultima questione proprio perché il potere diciamo della famiglia Agnelli si è esteso ovviamente nel tempo anche alla stampa e all'editoria oggi John Elkan veramente possiede non dico la totalità però una buona parte dei gruppi editoriali italiani in particolare il gruppo Gedi che ricordiamo essere dietro la Repubblica l'Espresso la stampa il secolo XIX Aff Post Italia Radio DJ Radio Capital Radio M2O insomma possiamo dire che appunto c'è un controllo capillare dell'informazione in Italia e quindi volevo chiederle anche da un suo punto di vista di esperienza personale visto che lei ha pubblicato dei libri che raccontano con un certo lato oscuro della famiglia Agnelli in che modo l'hanno colpita direttamente con questo controllo è semplice pensi che io sono andato dal notaio quando è uscito il mio primo libro sugli Agnelli e visto che non c'erano ovviamente recensioni sui giornali per quel poco che possono valere comunque una mano te la possono dare che cosa ho fatto? ho messo in palio 50.000 euro per il primo giornalista del gruppo controllato da Elkan allora controllava la stampa e il Corriere della Sera per il primo giornalista della stampa e del Corriere della Sera che avesse osato parlare ma anche in maniera negativa nella massima libertà del mio libro ho detto con la disoccupazione che c'è nei giornali con le casse integrazioni e tutto il resto ci sarà uno di coraggio di volontà che mette 20 righe dicendo questo libro di Moncao fa schifo no almeno parla no non è avvenuto ma io non sono a caccia delle recensioni di queste persone anzi adesso che John Elkan si è comparato anche la Repubblica più i giornali locali che sono importantissimi da Livorno a Sassari dal Veneto alla Lombardia figuriamoci se parlano pensi che quando io vado a Torino a presentare i miei libri e prima del Covid avveniva frequentemente poi purtroppo c'è stato questo problema è la stampa che ha una pagina nell'edizione di Torino di notizie di tre righe l'inaugurazione di una mostra di quadri un bambino che è nato alla clinica delle Molinette eccetera neanche queste tre righe pubblicava quindi proprio una cosa assoluta io quando entrai a lavorare al Corriere della Sera il mio caporedattore mi disse ogni volta che vedi una notizia con il cognome Crespi allora il Corriere era di Giulia Maria Crespi mi raccomando portala a vedere a me o al tuo caposervizio perché potrebbe essere un caso di omonimia ma potrebbe essere anche un parente dei Crespi quindi per evitare grani non pubblichiamo niente ecco qui è ancora peggio è ancora peggio e quindi questa loro li ha portati a una cosa che è stata molto positiva per me ma chiaramente primo mi hanno fatto saltare il contratto che io avevo con la Longanesi che aveva già fatto scrivere aveva già incaricato un editor molto bravo una signora di Firenze il libro era già pronto c'erano 40.000 prenotazioni da parte dei librai la Longanesi era stata molto professionale aveva detto un libro su una grande famiglia italiana a metà tra storia e attualità eccetera c'erano stato un sacco di prenotazioni me lo fecero saltare dicendo una scusa da morire da ridere perché mi dissero Alain Elkan il papà di John ha una rubrica allora avevo una rubrica di libri su Telemonte Carlo si chiamava ancora una roba che andava in un dal sabato mattina alle 10 una cosa sgangherata tra libri che cadevano in una libreria in esterne con delle truppe strane e non vorremmo che lui si arrabbiasse per questo libro e quindi non invitasse più i nostri autori e non pubblicizzasse più i nostri libri nel suo programma su Telemonte Carlo io disse vabbè allora non c'è niente anzi subito dopo fecero uscire una biografia su John Elkan che era da morire da ridere perché ad esempio descriveva John Elkan che al Bois de Boulogne aveva inseguito era andato alla ricerca di alcuni ladri che gli avevano rubato un giubbotto di pelle ora ve lo vedete John Elkan che vent'anni fa si accorge di non avere più il giubbotto che gliel'hanno fregato al ristorante chiede viene a sapere che sono fuggiti verso il Bois de Boulogne i ladri posto pericolosissimo popolato di prostitute per inseguire i ladri e trovare il giubbotto questo libro venne scritto da tale Turano ecco quindi addirittura fecero saltare il mio contratto mi diedero l'acconto naturalmente lo ricassai molto volentieri ma subito dopo ne pubblicarono uno in maniera da non infastidire la famiglia dicendo no 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 guardate noi abbiamo avuto a che fare per sbaglio con Montalvo ma adesso rimediamo e facciamo sta roba qua con questo libro ma la cosa più bella è stata che noi avevamo delle ordinazioni ogni settimana di moltissime copie dalle librerie di Torino la Mondadori la Feltrinelli la Cop eccetera e l'editore che era Vallecchi di Firenze si chiese ma quanti diavolo ne vendiamo di questi libri e fece un piccolo sondaggio tra le librerie e gli risposero guardi succede una cosa strana con questo libro perché arrivano sempre tre o quattro persone e ne ordinano cento duecento o trecento copie alla volta io non credo che facessero dei regali delle strene sono indeciso se li buttavano direttamente nel po se li bruciavano oppure cosa ne facevano dal punto di vista di Torino ero molto soddisfatto che un giornalista li scrive per venderli ma mi ha sempre insospettito quella cosa ora il mio libro ha una strana storia voi lo trovate in vendita solo sul mio sito www.gigimoncalvo.com a 20 euro che è il suo prezzo ma lo trovate su Amazon in vendita a 40 euro è un po' caro come libro francamente primo chissà dove l'hanno preso forse erano quei libri che ritiravano allora e comunque chi lo vuole lo può lo stesso per i caraccio i caraccio io ve lo consiglio di leggerlo perché riguardano una persona che nascostamente dietro le quinte è potente quanto Gionelka nel mondo dell'editoria si tratta di Giacaranda Falc Falc adottata illegalmente lo dimostra nel mio libro pubblicando i documenti dal principe Carlo Caracciolo che non aveva voluto riconoscerla quando era nata insomma Giacaranda Falc che cos'è oggi? è la proprietaria del secondo pacchetto di azioni di Repubblica e di tutto il gruppo Gedi è la figliola è la figliola di una signora che è morta recentemente Anna Cataldi che è stata la moglie di Urbano Cairo e quindi mette anche uno zampino nel Corriere della Sera più tante altre piccole e importanti cose ecco lei che ha venduto una delle creature più care del principe Caracciolo cioè la sua quota di Liberation il quotidiano della gauche francese non è più di Caracciolo da molti anni eccetera ma soprattutto è colei che ha fatto bruciare il corpo di suo padre lo ha fatto cremare per carità si può fare però ci deve essere una dichiarazione di volontà di colui che prima di morire dice davanti a testimoni voglio essere cremato invece non ha informato neanche i parenti grazie al sindaco Alemanno che allora mostrava la croce celtica poi però andava ai funerali di Caracciolo a piangere per tenersi buoni scalfari e tutto il giro di Repubblica lei lo fece cremare in 48 ore pensate a Roma riuscire a cremare una salve in 48 ore è una cosa pazzesca non lo sapevano neanche Marella Agnelli la sorella del morto non lo sapevano neanche il principe Nicola Caracciolo il fratello del morto non lo sapeva nessuno difatti Marella Agnelli il giorno dei funerali a Roma vide la cassa la bara lunga col principe Caracciolo il giorno dopo a Garavicchio nella tomba della villa di famiglia vide o scendere dal carro funebre un valletto con i guanti bianchi e un urna e si accorse che il corpo del fratello non c'era più perché venne fatto bruciare il corpo del principe Caracciolo semplicemente per impedire che venisse fatto un esame di comparazione del DNA perché si teneva l'esame del DNA perché il principe Caracciolo prima di morire aveva rivelato di avere altri due figli Margherita e Carlo Revelli si chiamavano ma il loro vero padre era Carlo Caracciolo lo dichiarò pubblicamente quindi la signora Giacaranda che era stata adottata illegalmente adottare una persona ci vogliono ci vogliono dai 5 ai 7 anni in Italia lei venne adottata in due mesi dal tribunale di Roma grazie all'avvocato Ripa di Meana poi scomparso ebbene la grande torta dell'eredità del principe Caracciolo se ci sono altri due figli viene divisa in tre fette e quindi la tua fetta su cui avevi tanto sperato e su cui avevi tanto puntata viene a diminuire allora che cosa accade? ci fu una causa incredibile che nel libro racconto molto avvincente in cui i due figli del principe Carlo Caracciolo hanno impiegato 5 anni per avere una sentenza favorevole del tribunale di Roma che dice che sono inoppugnabilmente documentatamente i figli naturali del principe Caracciolo e allegano anche la prova scientifica del DNA come hanno fatto ad avere la prova del DNA il campione del DNA visto che oltre a cremare il principe Caracciolo ci fu un'altra cosa che solo in Italia può accadere e vi pensate l'editore di Repubblica il principe che ha fondato l'espresso che viene bruciato senza il suo consenso con importanti banchieri che dicono sì sì voleva essere bruciato mentendo ed essendo sbugiarrati dal tribunale che cosa accadde? accadde che arrivò una lettera anonima al sindaco di Capalbio Capalbio è la località toscana che tutti conoscono ma è anche il luogo dove c'è la villa del principe Caracciolo che cosa accadde che il sindaco ricevete questa lettera attenti inviata al sindaco per conoscenza a striscia alla notizia non è che hanno inviato la lettera al sindaco per conoscenza alla procura della Repubblica anzi viceversa no che cosa segnalavano segnalavano che secondo una vecchia legge fascista che ancora oggi è in vigore se tu vuoi fare una sepoltura privata all'interno di una tomba di famiglia nella tua proprietà devi rispettare una distanza di almeno 300 metri rispetto alla casa più vicina dove vivono le persone e lì la casa era molto vicina era la casa del principe Nicola Caracciolo il fratello di Carlo e quindi i casi erano due o abbattevi la casa di Nicola Caracciolo ma non si poteva o trasferivi tutte quelle salme al cimitero oppure li cremavi e quindi chi è stato cremato oltre al principe Caracciolo anche suo papà e sua mamma e anche la signora che poi aveva sposato prima di morire una nipote di Lucchino Visconti quindi c'è stato un falò continuo una storia incredibile una storia incredibile davvero dottor Moncalvo e la ringrazio perché ci ha dato veramente un quadro abbastanza ampio di tutte le trame oscure che si celano poi dietro a queste famiglie abbiamo parlato della famiglia Agnelli giustamente lei cita la famiglia Caracciolo di cui si è occupato anche in un suo altro saggio veramente ci sarebbe bisogno di un'altra puntata perché ovviamente non abbiamo toccato tutti gli argomenti che riguardano questa famiglia che appunto nel bene e nel male noi abbiamo raccontato soprattutto la seconda parte hanno segnato la storia d'Italia sia a livello economico a livello politico e anche a livello sociale e culturale la ringrazio dottor Moncalvo per essere stato con noi speriamo una sola precisazione dato che ci sono quelli che poi cercano il pelo nell'uovo e ingrandiscono le fotografie la fotografia che trovate dietro di me è quando sono andato in Afghanistan non adesso o quando ci andavano tutti ma con a intervistare Gulbuddin e Kmakkar che era il capo dei talebani quelli di allora quindi se qualcuno ha ingrandito ha ingrandito e dice Moncalvo è un terrorista perché sì quel signore lì dietro di me è Gulbuddin e Kmakkar che ha 30 anni più di allora quando lo intervista ma che è feroce come lo era allora questo per precisare perché sai ci sono i lanciatori di fango poi ci sono quelli che dicono questo qui ce l'ha con la famiglia Agnelli io non ce l'ho con nessuno non ce l'ho con nessuno ci sono anche della Juventus è un giornalista come tutti che fa il suo lavoro giustamente di inchiesta di indagine e va a cercare ovviamente quello che non torna rispetto alla narrativa ufficiale che appunto è quello che lei ha fatto bene in questi saggi la ringrazio per essere stato con noi speriamo di averla di nuovo qua su Bio Blue perché veramente ci ha dato un sacco di informazioni molto utili e che non vengono divulgate ovviamente dai canali mainstream grazie a voi e complimenti per il vostro lavoro eccellente arrivederci grazie bene siamo giunti al termine di questa puntata io vi ricordo che potete seguire tutti i nostri aggiornamenti sul canale 262 del digitale terrestre oppure collegandovi al sito www.bioblu.com io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima intervista grazie a tutti